Un punto per il Martina, secondo classificato al termine della stagione regolare, un punto pure per il Galipoli che proverà a salvare la categoria domenica prossima ai play-out contro l'Angri. Un gol per parte nel derby andato in scena al Torsi, succede tutto nell'ultimo quarto di partita, il solito Palermo porta in vantaggio la formazione della Valle d'Italia dagli 11 metri, il solito Capnidi spareggia i conti per la formazione leccese. Scatano meglio dei blocchi di partenza, i padroni di casa, Bonanno su calcio di punizione, fallisce di poco la mira con il Mancino, tentativo fuori dallo specchio anche per Virgilio, servito dalla sponda di Bonanno. La replica del Galipoli arriva poco dopo il quarto d'ora, nulla di che però, il destro dalla distanza di Benvenga, dalla parte opposta Ganfornine dall'interno dell'area di rigore deve accontentarsi di un corner, poi sale in cattedra Silletti che decide di mettersi in proprio e propone una solo di rilievo. Non gli manca il coraggio di andare anche alla conclusione, ma Di Macer risponde presente, 0-0 all'intervallo. Ripresa che si apre nel segno del Martina Silletti, questa volta sceglie di andare di sponda, cerca ma non trova Palermo. Pericoloso per la prima volta nel match il Galipoli, insidiosissimo il destro a giro di Altamura, palla sul fondo, il parziale cambia a metà della seconda frazione, trattenuta in aria ai danni del nuovo entrato tedesco e calcio di rigore dal dischetto, Palermo fa 16 in campionato e porta in vantaggio la squadra di Massimo Pizzulli. Ultimo segmento di gara con il Leccese all'attacco alla ricerca del pareggio, Monteleone di testa blocca Pirro, il pari arriva oltre il novantesimo, Capnidis sbuca sul secondo palo e batte così Pirro fissando il punteggio sul definitivo 1-1. Basta un punto al Martina per blindare in maniera definitiva la piazza d'onore al termine della stagione regolare, la squadra di Massimo Pizzulli in serie positiva da 9 turni giocherà al Tursi sia alla semifinale play-off di domenica prossima contro il Casarano che l'eventuale finale. I Galipoli, quarto ultimo classificato invece, andrà a caccia dalla salvezza domenica prossima nel play-out secco contro Langri al Novi, Salentini obbligati a vincere per restare in serie D.